gentili telespettatori buona giornata i medici che chiamano credo giornalisticamente parlando novax forse per semplicità perché è più corto nel titolo ma in realtà non è che sono medici no vaccino ma sono medici che non si sono vaccinati sul covid non credo che siano medici contrari a prescindere sul vaccino almeno credo è pertanto dicono i giornali che i medici novax tornano in servizio e sono tanti milioni di milioni le stelle vuol dire qualità no sono circa 4000 medici che hanno rifiutato di vaccinarsi contro il covid 19 prima del 31 dicembre in molti anche tra i medici sono contrari a questo reintegro in servizio questo lo ha deciso il governo meloni il governo italiano nel suo primo cdm sarebbe consiglio dei ministri il cdm ecco primo consiglio dei ministri lunedì 31 di ottobre il governo decide reintegrazione dei medici immediatamente subito la pacchia è finita salvini direbbe la pacchia è finita alzarsi da casa dal divano e andare a lavorare andare a lavorare 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 così i medici immediatamente in servizio senza aspettare la scadenza del 31 dicembre dice cavolo volevo almeno fare le vacanze di natale poi andare in servizio invece no per dindirindina il primo di novembre sono già in servizio pronti via non avevo neanche lavato il camice così circa 4000 dottori e operatori sanitari sono già dovrebbero essere già ad affollare le corsie ospedaliere orazio schillaci che non gioca a calcio ma il ministro della salute ha detto che il quadro epidemiologico è molto meno allarmante dei mesi scorsi sia con carenze di organico che richiedono di garantire il diritto alla salute cosa dice il ministro dice va bene ok ho capito dovevano essere lasciati lì fino al 3 però mancano i medici il quadro è cambiato li facciamo tornare anche perché le persone le persone bisogna garantire il diritto alla salute già le liste di attesa tutti questi problemi si fanno tornare ma ovviamente molti dicono eh no ma così 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 che modo è se fai così perdi credibilità prima sanzioni e poi dimentichi un po come tu hai pagato in questi anni le tasse è bello bello sciocchino invece quelli che non hanno pagato gli faccio il condono è tu hai pagato fino a 2000 euro di di cose bravo beh mentre quelli che non hanno pagato gli faccio un bel condono non gliele faccio più pagare ecco insomma la certezza della pena la pena in tutti in tutti i modi io ti sanziono ti do una multa mi devi pagare con gli interessi eccetera eccetera e poi scurdammo su passata insomma è la politica dei condoni non è propriamente una gran cosa è parlo di qualsiasi cosa condoni edilizi condoni di equitalia condoni su questo aspetto insomma il condono è uno smacco a chi ha pagato e chi ha fatto e che si è che è stato aderente alla legge poi arrivano i politici nuovi scurdammo su passata bene lo sconto ai medici novax ha una valenza politica dice dice gianluca mercuri su prima ora è la voglia di dare un segnale discontinuità con i governi precedenti la premier ci teneva in quanto unica oppositrice di tutti gli ultimi esecutivi ruolo che le valso la conquista di palazzo chigi e l'ha spiegato così il covid era diventato tema da campagna elettorale era diventato ideologico e questo non ci ha aiutato ad assumere provvedimenti efficaci chi diceva altro era indicato come un mostro beh in questo in tutta questa epidemia naturalmente se tu avevi una opinione diversa da dall'opinione dominante altro che mostro non potevi più neanche parlare ecco pertanto abbiamo assistito al politicamente corretto applicato anche alla pandemia così dopo la dopo di che la carenza di di personale medico è un problema oggettivamente drammatico ha spiegato milena gabanelli nel suo data room saldo negativo tra nuovo specialisti e pensionati medici gettonisti strapagati che saltano da un turno all'altro bandi disertati insomma il prossimo passo potrebbe essere l'abolizione del numero chiuso per entrare all'università io abolirei il numero chiuso perché devi mettere un numero chiuso e non so fai entrare solo 50 ma erano i donne in 100 se sono i donne in 100 falli entrare tutti e 100 no e sono troppi troppi perché ci mancano i medici e metti un numero chiuso questo non vuol dire fare entrare gli asini o quelli che non ci sono il punto è fare entrare tutti quelli che ritieni idonei con un certo punteggio poi ci sono gli esami insomma studiare medicina non è semplice io ho visto che per degli esami portare un esame che un libro così cosa che io non riuscirei mai a portare un libro intero come esame ci metterei 150 anni invece c'è gente che quei libri lì se li sa quasi a memoria io ricordo questo lo ricordo avevo una fidanzata che studiava medicina ogni esame si portava un libro diciamo ma come cavolo fa lei si leggeva sto libro e si ricordava tutto una memoria di ferro io non riuscirei mai ma neanche una pagina imparare a memoria il libro di 300 pagine lo sa qualsiasi che io provavo a fargli le domande aprivo il libro a caso che cos'è e rispondeva tutto diciamo ma come cavolo ma che che razza di memoria è un computer vabbè insomma non è semplice per quello che vi dico il numero chiuso poi c'è la c'è la prova del 9 fai l'esame se l'esame non lo passi saluti e baci arrivederci a presto a un feeders and goodbye ecco naturalmente ci sono le politiche le polemiche politiche che la decisione della meloni è un assist ai novax novax bene ma voi sapete che l'opposizione che fa si oppone a tutto quello che dice il governo non dovrebbe essere così è l'opposizione dovrebbe essere intelligente e capire le varie cose ma che l'opposizione di sinistra sia un certo tipo di opposizione o i miei dubbi sarà l'opposizione del no e dell'anti tutto lì vuoto assoluto arrivederci grazie